Avevano messo su un sistema di truffa ai danni di una nota azienda versiliese che vende costruzioni in lamiera e dei suoi clienti ed è stato proprio uno di questi ad insospettirsi e a smascherare il raggiro. Quattro persone di origine campana sono state così denunciate dalla Polizia di Stato per associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe online. In pratica la banda utilizzava il logo di una ditta molto conosciuta nella vendita di boxe prefabbricati con seda Pietrasanta per adescare ignari clienti. Pubblicavano un inserto su una piattaforma online proponendo le costruzioni a prezzi particolarmente vantaggiosi. Gli utenti venivano attirati proprio dal marchio dell'azienda, leader nel settore e dalla sua affidabilità sul mercato. Una volta mostrato interesse, i truffatori chiedevano a loro una caparra da versare su conti correnti aperti ad hoc, senza però ovviamente mai inviare la merce acquistata. Un cliente, non vedendo arrivare il prodotto, ha contattato direttamente l'azienda Pietrasantina che scoperta la truffa a Sporto Querela. I fatti risalgono lo scorso autunno. La stessa azienda, una volta visto il raggiro, ha messo in guardia i propri clienti sulle proprie pagine social. La squadra anticrimine del commissariato di Forto Remarmi è riuscita ad identificare i quattro campani fra i 19 e i 48 anni grazie all'incrocio di dati contenuti all'interno di database in uso alle forze dell'ordine e ai profili da loro creati su piattaforme di e-commerce. Grazie!